L'ho avuto Lily il cavallo e una e' una pre-cappella di Altezza e come pò fare Il scavato la mia arma migliore il giavellotto Ga-na-na-na, Ga-na-na-na, Ga-na-na, Ga-na-na.. Ga-na-na-na, Ga-na-na, Ga-na-na-na, Ga-na-na, Ga-na-na-na, Ga-na-na, 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 Ga-na-na Ga-na-na-na, Ga-na-na, 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 Ga! secondo me ha chiesto al signore e ti danno ti faccio un dato 6 minuti e ho più di 5 attenzione un dei dati trappista da giabelloni la prima in tutta la vita volevo farlo partecipare alle olimpiadi sapevo 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 no sapevo